Da questo fine settimana riprenderemo a svolgere i servizi anche mediante l'utilizzo del drone dell'Arba dei Carabinieri. Riprenderemo qua nella zona di Vicenza, nelle aree di Mitrofe, ma stiamo anche valutando la possibilità di estendere l'utilizzo del drone anche in altre aree della provincia. Mi viene in mente ad esempio la zona di Bassano, dell'altipiano di Asiago, questo anche in virtù dell'approssimarsi del periodo pasquale. Infatti è noto che attraverso questo strumento si è in grado di poter visualizzare e di poter localizzare anche delle zone particolari che non sono facilmente raggiungibili con i mezzi di servizio, ad esempio i sentieri, le forestali, determinate strade sterrate. Questo tutto ovviamente finalizzato esclusivamente a scongiurare che si possano verificare degli assembramenti, delle aggregazioni di persone e questo anche e soprattutto appunto in virtù dell'approssimarsi del periodo pasquale.